Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPLI per lavori 4 km di coda tra Scandicci e Ginestra in direzione mare, 2 km di coda sulla carreggiata opposta in direzione Firenze tra Ginestra e Lastra e per traffico intenso coda in uscita all'Astra Segna in direzione mare. In A1 in direzione Roma, 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Incisa Reggello e Valdarno. Code a tratti per traffico intenso tra Barberino e Calenzano. Con il rientro a scuola anche delle superiori è in atto una nuova fase del trasporto pubblico. Aggiornamenti e collegamenti in diretta sui canali social di Muoversi in Toscana. Si ricorda che il numero verde regionale per gli utenti del TPL è 800 570530. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!